Mister Cantara, una vittoria importante per il Tempio non è stata una gara facile contro un ottimo Talorago a voi? Assolutamente, è una cosa giustissima. Loro sapevano che erano un avversario tra i più difficili che potevano affrontare adesso. Una squadra di grande carattere, una squadra messa molto bene in campo da loro allenatore. Abbiamo fatto fatica al primo tempo e anche loro che giocavamo dopo due giorni, insomma, nella parità con l'Iffa, come abbiamo presentito sul piano del ritmo. Siamo andati meglio nel secondo tempo, ci siamo asciuti, c'è stato qualche spazio in più per i nostri giocatori, poi anche i campi ci hanno un po' revitalizzato perché è normale che non tutti possano avere le energie giuste ogni 48 ore, diciamo, abbiamo giocato due giorni fa. Quindi va bene, vittoria importantissima, difficile, però l'abbiamo tenuta con la testa, rimanendo tranquilli anche nel momento in cui le cose sembrava che non stessero andando per il verso giusto. Mister, parliamo di un lato tecnico. Nel secondo tempo ci sono stati tre cambi, praticamente tutti e tre gli attaccanti sono stati cambiati e poi è uscito anche De Murtas. Comunque questa squadra molto votata all'attacco perché anche sul risultato già acquisito vuole creare, continuare a creare. Sì, era programmato, insomma, abbiamo messo l'entro delle energie fresche, poi Stefano ha giocato sempre, non si è mai risparmiato, non dimentichiamoci che mercoledì gioveremo una cosa e sarà un altro impegno durissimo, quindi ho cercato di preservare un po' le cose, quindi va bene così, ragazzi hanno risposto tutti al meglio, sono contento. È stata una prestazione non brillantissima dal punto di vista della qualità, però soddisfacente dal punto di vista del contenuto generale. Tornato al gol anche Igene, come ha detto anche lei domenica scorsa, con quella scorsa partita, è importante per gli attaccanti ovviamente trovare il gol. Sono particolarmente contento per Victor perché era da un po' che non segnava e sappiamo che per loro le gole ossigeno, quindi il gol di Virdis e di Igene ci dimostra che sono due ragazzi sul quale tempio può fare davvero grossi affidamenti. Grazie, complimenti a Mr. Can. Prego.